Fino al 31 maggio, Fiat e Lancia ti offrono 100 milioni di incentivi per passare ad una nuova auto. Arrivano gli imperdibili 100. Ma ragazzi, scusate, 100 milioni? Ma siete sicuri? Fidati, Rovazzi, è tutto vero. Gli imperdibili perché risparmi, la guidi adesso e inizi a pagarla nel 2019. Ma quindi mi pagherete nel 2019? Rovazzi, vai avanti, poi ne parliamo. Fiat Tipo da 12.500 euro con finanziamento imperdibili 100. E in più sulla pronta consegna, tutti gli optional in omaggio. Grazie.